La Corte di Appello di Palermo ha convalidato l'arresto del cittadino rumeno Florin Culai Pascano, 45 anni, ricercato in tutta Europa fin dal 2013 e fermato lo scorso 22 luglio dagli agenti del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro, nel pieno centro cittadino. L'arresto era scattato alle prime luci dell'alba del 22 luglio scorso, nel corso di un brillante servizio messo in atto dall'ufficio controllo del territorio del commissariato palmese. In tutti questi anni il Pascano, passando da uno stato all'altro, era riuscito a sottrarsi alla pena detentiva, combinatagli dalle autorità rumene per il reato di furto aggravato. Nella nottata, grazie al capillare servizio disposto dal questore, il personale del commissariato intorno alle quattro aveva bloccato un Alfa Romeo, modello 147, sulla quale viaggiavano quattro soggetti di nazionalità rumena, alcuni annoveranti pregiudizi di polizia, fra questi il Pascano, nei confronti del quale era risultato qualcosa di più grave. E intanto la Corte di Appello di Palermo ha convalidato l'arresto ed è stata richiesta la documentazione alle autorità rumene per avviare l'estradizione verso la Romania, alla quale il Pascano si sta fortemente opponendo. Per il momento è stata applicata al rumeno la misura cautelare della custodia in carcere. Il cittadino rumeno potrebbe essere trattenuto presso lo Stato fino alla definizione di alcuni processi penali pendenti. Sul territorio italiano per fatti commessi, reati contestati, uno per falsa generalità, l'altro per porto abusivo di coltello.